Per me questo albergo è tutto, è la mia vita e io per queste cifre non mi sposto. Perché stiamo andando dall'anno? Di solito ci andiamo a Natale. Vabbè ogni tanto per cambiare ci andiamo all'estate, no? Oh no! Ma cosa fai qui? È una sorpresa. E voi siete venuti qui senza preavviso per dirmi che volete separarvi. Chiara! Vic! Ma se glielo diciamo noi gli spezziamo il cuore. Ciao Chiara, che ci fai tu qui? E' estate. Se glielo dici tu glielo puoi far capire facendogli il meno male possibile. No perché se posso dire la mia... Non puoi dire la tua. Credo che sarà molto dura per Chiara. Quindi questi due imbecilli si sapranno. Però se posso dire la mia... No, non puoi dire la tua, non puoi. Eh beh scusate. Sei diverso dal solito, sei pensieroso. Sai cosa deve essere questa dieta ferrea che sto facendo? Tanta ginnastica, questi addominali. Una stella cadente. Dai, esprima un desiderio, dai. Vorrei che fosse Natale. Tutto da solo ho fatto, eh. Otto non ha alzato un dito. Come la neve. Non parliamo più. Eh, non facciamo neanche più. Io ho capito, immagino. Mi serve il tuo aiuto. A me indiocesi, sai come mi chiamano? Come ti chiamano indiocesi? Don attack. Per forza, perché si è sempre attaccato alla bottiglia. Sono sicuro che troveremo un accordo. Spazieranno via tutto. L'albergo, il bosco, l'intera valle. Noi dobbiamo fermarli. Tutti vero. Stanza 103. E allora, facciamo tremare questa valle? Avete, a cuore aperto. Natale quest'anno. Lo facciamo a ferro angosto. Buona tante! Se posso dire la mia? No, non puoi dire la tua. Ma un giorno potrò dire. No! Radio Italia. Radio Ufficiale. Radio Italia. Ciao!